Difficili battaglie. 19 giugno 1975. Figli di Letti. Nel mio cuore c'è posto per tutti gli uomini della terra, che io amo di un amore infinito, ma per chi mi offre preghiere e sofferenze c'è un posto di predilezione, poiché così mi si dimostra l'amore. Io guardo queste anime e le offro con me al Padre. Esse diventano dei novelli Mosè che ottengono misericordia per il mio popolo. Ecco perché vi invito a non negarmi mai la vostra preghiera ed a fare in modo che sia una manifestazione d'amore. Ecco perché gradisco e benedico l'offerta della vostra croce, dei vostri cruci, dei vostri malanni. Il popolo ebreo fu scelto da Dio perché da esso dovevo nascere io, ma anche perché elevando preghiere e sacrifici ottenesse pietà al genere umano. Maria fu al centro di quelle anime supplicanti. Attorno a lei, fin dalla sua nascita ma anche nel Tempio, anime sante pregavano, offrivano e con rettitudine e con amore servivano il Signore. Poi venni al mondo. Nacqui sconosciuto e rifiutato da molti. Ma attorno a mia madre i pastori ed altre anime buone. Poi venne il momento di comunicare agli uomini il mio messaggio di salvezza. Ed ancora attorno a mia madre si radunarono le discepole. Che comprendevano anime amanti e convertite. E da Maria imparavano a conoscermi ed a praticare i miei insegnamenti. Sempre. Nella Chiesa. Maria fu il mezzo per portarmi le anime e con esse si aiutava la Chiesa. Ingigantiva la fede e diveniva più facile l'azione apostolica. Ora voi siete qui. Vi siete riuniti già da alcuni anni nel nome di mia madre. Ricevete da me e da lei l'insegnamento facile. E col suo aiuto e con la mia grazia. Capite ciò che dovete fare e come dovete vivere. E però come miei prediletti. Scelti da me. Avete il duplice compito. Con Maria dovete supplicare il padre di aver pietà degli uomini. Con Maria e per Maria dovete aiutare la Chiesa. Siete chiamati qui come ad una scuola che deve diventare una fortezza. Che cos'è una fortezza? Un luogo dove si trincerano i soldati per difendersi. La fortezza fa parte dell'esercito e unico è il generale. Voi qui vi trincerate per studiare a fondo la verità. Ed anche per difenderla. Sgominate i nemici con la preghiera. Col sacrificio. Con la verità. Accanto a Maria verrà il trionfo della fede e della grazia. È importante la vostra opera. Sembra tanto semplice che anche un bambino potrebbe svolgerla. Ma è molto importante per i momenti in cui vivete. Siate perciò assidui. Siate ferventi e venite con desiderio vivo di apprendere. Il silenzio che precede le vostre riunioni sarà il mezzo per meglio capire il linguaggio divino. E l'entusiasmo che metterete nell'ascoltarlo. Sarà di grande gioia alla madre mia che lo farà fruttare. Così sia costante nella vostra mente il pensiero di Mosè che, pregando sul monte, faceva in modo che il suo popolo, che era mio, potesse vincere. Ardue battaglie vi aspettano contro Satana. Che diventa sempre più forte perché trova negli uomini i suoi satelliti. Chi collabora con lui. Ardue battaglie contro il male. Che viene in tutti i modi giustificato ed approvato e perciò più facilmente diffuso. Ardua battaglia anche con voi stessi. Per quella pigrizia ed inerzia a cui tutti sono portati e per quell'isolamento in cui i buoni saranno lasciati. Siate però sempre con Maria ed Ella. Che è forte come un esercito schierato a battaglia. Sarà la sempre vittoriosa con voi. Vi benedico tutti, figlioli. E vi amo tanto. Siate il sale della terra. Siate luce nelle tenebre. Ma tutto ricevete e date nel mio nome con Maria. Arrivederci, figli. Oggi la benedizione della vostra mamma spirituale avrà maggiore efficacia. Ricevetela con fede.